Rappresento sia come editore che come direttore il Saviglianese, siamo il giornale più antico del Piemonte perché siamo nati nel 1858. Un ragionamento veloce, l'altra settimana abbiamo avuto la fortuna e il piacere di avere Paolo Mieli che rappresenta Savigliano per una conferenza e passato in redazione a trovarci. E prima cosa ha voluto vedere il primo numero, era un foglio tutto nero, solo di testo, senza un'immagine, quattro pagine e poi ha voluto vedere cos'è oggi il Saviglianese, un giornale full color, pieno di immagini, fotografie, più moderno, graficamente completamente diverso. E da lì ci ha chiesto, ma avete anche un sito? Sì, noi siamo un paio di anni, anzi sono quattro anni che abbiamo il sito internet, sono tre anni che abbiamo anche il giornale in pdf sfogliabile in vendita come abbonamento online. Non abbiamo grossi numeri, se volete i nostri numeri sono tutti abbonati dell'estero o di extra regione che per vari motivi negli anni grazie anche al disservizio postale non ricevevano il giornale in tempi ragionevoli perché noi usciamo il mercoledì mattina, se lo ricevi al martedì della settimana dopo, anche se sei in Puglia o in Sardegna comunque mi sembra che non abbia senso. Quindi questi abbonati cartacei sono passati all'online, sono passati all'online quelli dell'estero che le spese postali sono insostenibili per alcuni e alcuni locali. Potremmo dividerli, abbiamo fatto due conti, un 70% sono extra regione e abbiamo un 10% all'estero e un 20% locale. Di questo 20% locale però dopo un anno il 10% è tornato al cartaceo, con un ricambio perché poi magari ce ne sono di nuovi. Però questo 10% è tornato al cartaceo perché comunque alla fine probabilmente nella nostra natura di giornale storico, di giornale tradizionalmente molto radicato nella nostra realtà ha fatto sì che fortunatamente le nostre vendite in edicole e i nostri abbonati negli ultimi anni, nonostante la crisi, non sono calati. E' calata la pubblicità, questo sì, siamo tutti allineati nel calo pubblicitario, però il calo pubblicitario è importante perché comunque è una delle due gambe. La terza dobbiamo ancora trovarla e il sito, probabilmente anche per colpa nostra, non ci abbiamo creduto abbastanza, anche se l'abbiamo rinnovato graficamente da poco, resta per ora un sito dove vendiamo il giornale online, cerchiamo di dare le notizie, vetrina, quindi cerchiamo di dare il lancio alle notizie che abbiamo sull'edizione che esce in edicola, ma niente di più per ora. A sentire anche la prima parte del convegno discuterò con il mio collaboratore, da domani probabilmente qualche notizia, qualche lancio in più verrà data. A oggi l'entrata pubblicitaria del sito è praticamente pari a zero, quindi mi allineo al collega, noi non abbiamo grosse entrate, forse anche quello ogni tanto ti fa desistere da fare investimenti su questo prodotto qua. Abbiamo più contatti sicuramente su Facebook, abbiamo quotidianamente richieste, colloqui, diciamo scambi di notizie tramite Facebook. Non abbiamo tutto questo tramite il nostro sito, eppure non siamo sicuramente il sito più bello che c'è, ma graficamente può anche essere un sito che ti invoglia ad andare a commentare la notizia. Adesso che abbiamo rifatto la resta grafica lo utilizziamo anche per fare le fotogallery, perché il giornale, la fogliazione quella è, in una pagina non puoi mettere 25 foto di un evento, allora lo si sfrutta per dire, guarda qua trovi 4-5 foto, però la fotogallery se vuoi sfogliarla te la trovi sul sito e te la vai a vedere. Quindi, ripeto, probabilmente la nostra realtà di giornale storico e radicato ci porta ad avere degli abbonati, dei lettori tradizionali, che piace ancora ad avere il giornale in mano, sfogliarlo, riprenderlo, passarlo magari da padre in figlio. Abbiamo avuto un boom di abbonati in edicola, perché sempre per motivi postali, negli anni alcuni non lo ricevevano in tempo, e si sono spostati sull'abbonamento edicola. Noi adesso da un anno e mezzo che riusciamo ad arrivare sia agli abbonati a casa che in edicola al mercoledì mattina in contemporanea, nonostante questo gli abbonati in edicola sono nuovamente cresciuti, quindi vogliono andare a prenderselo in edicola col risparmio dell'abbonamento, però non attendere che magari il postino passi alle 11 o mezzogiorno. Ripeto, siamo un giornale storico, abbiamo probabilmente un target di pubblico che ci porta ad avere questa realtà qua. Non che non crediamo nel web, il web sicuramente dovrà essere uno strumento che interagisce con il cartaceo, in questo momento penso che fare un buon giornale di qualità, dove hai degli articoli seri, dove la grafica ti può anche invogliare ad andare a sfogliarlo, a leggerlo, oggi premia ancora. Non dobbiamo dimenticare il web, questo sicuramente, non è un discorso da dire no, il web non ci interessa, c'è, dovremmo nei prossimi tempi brevi cercare di far interagire di più il nostro cartaceo con quello che è la rete. Grazie. Grazie.